Andrea Reale, pizzeria da Adriano Marpino, presenta la pizza autunnale. Un impasto preparato con la vivace di polselli? Sì, esattamente. In che modo? Questo è un impasto diretto con circa 40 ore di maturazione e 8 ore di lievitazione a temperatura in birra. Il lievito? Lievito, io uso lievito fresco, lievito di birra. E idratazione? Siamo su circa un 70% di idratazione. Quindi abbastanza idratata, molto digeribile questa pizza. Andrea, prego. Grazie. Per condire questa pizza abbiamo scelto che cosa? Allora, usiamo gorgonzola e un po' di fior di latte. Un po' di fior di latte e poi la completeremo dopo la cottura. Sveleremo successivamente l'ingrediente autunnale, perché pizza autunnale dovranno aspettare i nostri amici telespettatori. Per una sorpresa, adesso cosa va? Un po' di olio evo di arpino. La possiamo cuocere tranquillamente nel nostro tunnel stone. Ok. Nel frattempo conoscere anche un po' più da vicino il lavoro di Andrea nel suo locale. Grazie a tutti. Daniel dell'Istituto di istruzione San Benedetto di Cassino ci consegna questa pizza autunnale che adesso scopriamo perché si chiama autunnale. La completiamo mettendo noci. Ecco, che rigli di noci sono veramente rappresentative di questo bellissimo periodo dell'anno. Un po' di basilico. Ancora colore, freschezza e profumo. Qualche foglia di basilico. Qualche foglia di basilico. Qualche foglia di basilico. Un po' di olio. Infine l'olio di arpino. Ecco qua. E Daniel può servire la pizza autunnale di Andrea. Prego. Grazie. 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 Grazie.